c'è il pallino roberto siamo siamo ecco il pallino sì quindi questo vuol dire che siamo siamo online stiamo registrando sì 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 e robbie e siamo qua per la giornata mondiale della poesia ci incontriamo per ringrazia per rispondere a delle domande che ci siamo fatti reciprocamente però ce ne siamo fatti cioè in realtà ce ne siamo fatti non c'è neanche ce ne abbiamo fatte a carta a carbone che ha fatto le lettere e ci ha inviato delle lettere sì sì fra l'altro con una calligrafia meravigliosa d'altri tempi qui dentro io scoprirò le tue domande tu scoprirai le mie le apro apro guarda cosa c'ho io sì no vabbè lì c'è la carta spada è una spada che era una bomboniera di un matrimonio che io ho ufficiato anche tu è ufficiato dei matrimoni non lo so sì sì certo certo e qui ho ufficiato e mi hanno dato questa cosa qui e adesso apro guarda qua vediamo che cosa mi hai domandato vediamo che cosa mi hai domandato inizio io inizio io inizio tu guarda io ce l'hai l'hai aperta ma che bellissima che stile incredibile ma no c'era anche un altro pezzo allora 21 marzo 2021 caro paolo qui è roberto a scriverti rapito da carta e penna per celebrare assieme a te la giornata mondiale della poesia attraverso l'antica arte della scrittura a mano quando ho saputo grazie a carta carbone di questo evento singolare non ho potuto che pensare a te hai pensato a me e quindi ecco di questa lettera semplice genuina dove potrai trovare alcune mie curiosità sul paolo a grati poeta bel modo di festeggiare la poesia non trovi allora allora una domanda leggo la tua prima domanda della tua produzione poetica mi impressiona la varietà si va da testi assolutamente tragici tra gici come quelli di partiture per un addio dove eserciti un grande rigore formale nessuna parola è fuori posto ad altri molto più scanzonati e scherzosi o addirittura volutamente demenziali come quelli delle poesie per tutte giusto giusto come pensi a queste attitudini così diverse per te sono facce della stessa medaglia c'è una sorta di gerarchia mi interessava chiedertelo sì in realtà non c'è non c'è una gerarchia ma se se tutto il lavoro tutto il lavoro delle mie poesie è su un aspetto particolare della poesia che è quello della della comunicazione quello di cercare di rendere la poesia ancora comunicativa no quindi questo unisce un po' tutti gli ambiti all'interno di questo desiderio insomma di riunire cioè di fare comunicazione della poesia comunicazione non è solo la sola cosa che si può fare con la poesia ma è un ambito che a me interessa allora io utilizzo diversi linguaggi per fare la stessa cosa ovviamente sono corde che che ho nella mia si dice corde che ho nella mia chitarra posso dire così sì sì e mi piace anche sia divertirmi insomma che che essere rigoroso un po' una sperimentazione all'interno della poesia quindi non so se c'è una gerarchia devo dirti che mi diverto molto mi piace divertirmi con la poesia però le partiture insomma le poesie quelle che dici più rigorose sono quelle le quali sono più affezionato perché perché anche se se ridere far ridere comunque è difficile una cosa molto molto difficile però lo so c'è sempre questo c'è questa cosa con la poesia che quando quando la serietà e quanto in mezzo alla serietà o la o la profondità sono 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 più affezionato a questo tipo di di linguaggio ecco mi hai risposto alla grande quindi si si c'è c'è un'unità c'è di tante cose che si può fare con la poesia uno può fare delle ricerche delle sperimentazioni linguistiche no può cercare anche in se stesso invece tu metti a fuoco questo aspetto qui che è quello della comunicazione e solo che comunichi in tutti i modi toccando tutte le corde quindi da quello più tragico a quello più comico e mi ricordo quando sei venuto a fare il poesia slema a san mauro pascoli da me che hai vinto e con le poesie delle partiture e ti tremavano le mani mentre leggendo sì perché perché sono affezionato questi personaggi sebbene siano inventati no sono raggi che si tolgono la vita insomma che ci raccontano una vita ma togliendo affrontando la fine a loro fine sono sono molto affezionato e mi 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 emoziono non so non so se se sono presuntuoso in questo mi emoziono sono cose che mi emozionano per primo quindi spero che lo facciano anche con gli altri e immagini la mia diretta io leggo la tua carissimo roberto ho ricevuto con grande gioia la tua lettera e ho deciso di risponderti anch'io a suon di carta e penna per mantenere vivo l'interesse per la poesia soprattutto in questo giorno particolare sei una forza della natura grazie un uragano buono portatore di pensiero ed è inevitabile per me conoscere i segreti della tua intimità prima domanda una tua grande forza è la curiosità che ti spinge a guardare dove gli altri non guardano sei sempre stato curioso la curiosità ti anche messo in difficoltà sono stato curioso anche da 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 bambino volevo sapere volevo scoprire volevo conoscere anche a scuola a volte facevo delle domande supplementari noi professori dicono questa cosa che ho anche già detto che dicevo se un giorno sarò re avrò una corte tanti professori a cui potrà chiedere tutto quello che quello che voglio a qualsiasi ora del giorno della notte mi metterò un professore di biologia che sa tutto sulla natura sugli animali tu parla istruisci però invecchiando secondo me sono diventato più curioso perché perché ti rendi conto sempre di più di quello che non sai e ti rendi conto sempre di più che sono cose affascinanti cioè da ragazzo non ero interessato agli insetti o alle piante ma poi scopre che c'è un mondo che dice perché sono così ignorante perché non sono un entomologo perché non sono un botanico prendono delle fami che prima non avevi nei guai non mi ha mai messo la curiosità mi ha un po complicato la vita un po allungato insomma c'è del lavoro in più da fare se sei curioso e qualcuno ogni tanto ti guarda strano se fai delle proprie domande però è certo ma è bella questa cosa però dell'essere perché io direi che molte persone se gli dici ma se sei re cosa cosa faresti e cominciano a dire cose tipo di tipo cioè da vere cose no cioè un castello un castello come si deve non una una pletora di insegnanti ecco non so come dire è molto curiosa questa roba ma è proprio in linea insomma io l'apprezzo molto l'appretto dei insegnanti cioè se fossi re e io andrei avanti e roberto andrei avanti sì 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 andiamo avanti vediamo la tua seconda domanda mi tolgo gli occhiali sono diventato non so cosa col col tempo eccola qua seconda domanda che rapporto hai con la poesia è qualcosa che arriva quando vuole arrivare senza che il poeta ci possa fare niente oppure è possibile esercitare una sorta di controllo è una domanda abbastanza difficile perché è vero che arrivano dei lampi cioè arrivano dei lampi uno è un treno vede una cosa no io dico sempre che è un po rettorica questa cosa che dirò ma ma ci credo veramente dico che sono cose che esistono già no e il poeta in qualche modo le coglie le coglie in un mondo che si manifesta e che tu vuoi sei disposto a vedere questa manifestazione no a cogliere si è disposto a cogliere un uno uno squarcio uno squarcio poetico e poi io poi poi c'è il lavoro secondario che è quello di cercare di restituire questa cosa che tu hai provato hai hai carpito a qualcun altro e quindi è per quello che la questione della comunicazione è fermarla ma cercare di ridarla no trovare un medium un mezzo che possa essere da fare da collegamento tra la poesia te e qualcun altro no quindi tu sei diciamo un trasportatore della poesia e poi c'è anche un lavoro in realtà questo succede avviene avviene proprio farsi prendere da questi squarci e poi c'è c'è un lavoro anche intellettuale credo sulla 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 poesia cioè il cos'è il controllo non solo del dominare questo squarcio che ti si è presentato no dagli una forma una forma in parole parole lo contengono cercano di scriverlo no non lo scrivono mai totalmente cercano quindi lo suggeriscono e poi c'è invece appunto il controllo è la costruzione intellettuale di un lavoro quindi che sono un tema sul quale cercare di sviluppare un impianto appunto poetico comunicativo o comunque anche anche intellettuale insomma la costruzione quindi ci sono due un po di queste due queste due forme è vero che è sempre necessario secondo me è quella cosa lì della curiosità che c'hai te no cioè tu una cosa dici ma che che vai a scoprirlo no e poi dopo ci sono molti modi in cui si può riportare a qualcun altro no tutto tutto sai qualcosa però io che faccio sia narrazione no che poesia e con la narrazione sono arrivato a una sorta di di consapevolezza di artigianale per cui tu mi dai un tema io so che insomma mi metto lì prima o poi verrà fuori ok un monologo nel mio stile della durata giusta eccetera la poesia mi sembra una cosa un po indomabile arriva che non riesco a scrivere stai sveglio fino all'1 alle due o tre di notte non cagli un agno da un buco altre volte così da sola viene una poesia quasi perfetta la devi solo un polimare che non riesco a ridurla a una dimensione artigianale capito beh ma questo questo è proprio la credo che sia proprio anche 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 quella è la poesia cioè non riuscire a dare una forma alle cose fa parte del del mestiere credo che sia come una cosa non non è da meno credo una poesia non riuscita cioè ovviamente non è una poesia però è stato un percorso che ti ha portato vicino intorno alla poesia al quale poi non si è riuscito a dar forma forse no però è bello anche che ti che ti che ti che ti privi dei tuoi strumenti no tu sai fare una cosa dici vabbè io la faccio no alla fine la fai qualche cosa invece qua ti priva di uno strumento no anche se anche se ce l'hai ti beffa ti beffa sì 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 vado alla tua seconda domanda vai vai robbi sei anche un poeta e quindi utilizzi diverse forme di espressione come come si diceva quando hai avuto l'esigenza di preferire la poesia alla prosa ma la poesia è capace di dire parole in momenti e su temi di intensità estrema dove la parola risulterebbe debole la parola la rosa la parola comune la parola e io per esempio io per esempio ho fatto un monologo sulla sulla resistenza basato soprattutto su testimonianze di partigiani locali qui dalle mie parti di sopravvissuti a stragi locali e ci sono dei momenti di patos e altri anche di comicità involontaria perché l'ingenuità di questi ragazzi insomma a volte creava delle situazioni per cui c'è un alternarsi c'è un altalenante c'è c'è un altalenare di 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 tensione di risata di tragedia e di commedia no quindi è proprio quello che volevo creare no in modo che lo spettatore lo spettatore non si riposasse mai no a un certo punto a un certo punto devo chiudere lo spettacolo non ho trovato qualcosa che leggesse capito deve essere le ultime frasi devono sono quelle che devono fare esplodere la commozione l'applauso quello ho messo una poesia di paul zella la poesia di paul zella non c'è un altro modo per chiudere un discorso che cosa hai messo c'è un frammento di una poesia tratto da di porta in porta che si chiama notte della parola e ti sembrerà impossibile perché zella ne proprio è proprio ermetico ma io faccio prima un discorso poi introduco la poesia la spiego un po insomma l'emotività è tale il discorso che ho fatto prima è talmente chiaro che tutti capiscono tutto è chiaro ma mi sai cosa mi fai ricordare mi fa ricordare quando si dice che certe cose si possono dire solo in dialetto per esempio c'è la parola io dico sempre cito sempre questa che poi forse ce l'avete anche voi lì ma è spettaciato da noi si dice spettaciato quando una roba è caduta a terra in inglese è tipo anche collapse cioè quando qualcosa è caduto a terra ma si è spiaccicato per terra e spettacchè è una parola che grazie anche all'onomatopea però è un po non lo dico in italiano si va bene spiaccicato però non ha quella roba non ha quella quella quel nel dialetto e forse non so è la stessa cosa che che una cosa si può dire solo in poesia anche o non dire no o se mi dire io ho detto che la poesia è sono le parole degli ammutoliti cioè la poesia a volte gritto comincia quando 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 ti viene a dire ti viene a dire non si può dire niente si oppure porta in una strada ma ti fa vedere solo la quella via no ti fa vedere sulla polla chiama la porta e qui dopo basta finita lì cioè se tu che devi no invece nella narrazione c'è una struttura che magari ti porta anche attraverso un percorso diverso io puoi accompagnare per mano andrei andrei l'ultima domanda piacevolmente ma andrei l'ultima domanda allora ecco sei anche un cantante e un performer con la spleen orchestra è più difficile cantare parole in mezzo con l'accompagnamento della musica e molti altri performer sul palco o recitare le proprie poesie senza musica e solo allora situazioni estremi sono situazioni completamente diverse e ti dirò che c'è anche un pubblico molto diciamo più nell'orchestra c'è anche un pubblico più impressionante nel senso che nei reading nei miei non nei tuoi c'è meno gente che che con la spleen orchestra che è arrivata tipo anche a pubblico a un pubblico di sotto diecina persone al luca comics no in concerto perché dico ciò non per tanto per dire ma che questo pubblico però perché il pubblico il pubblico è importante cioè chi sta sul palco convoglia le energie del pubblico l'orchestra peraltro uno dei suoi propositi non è solo quello di fare musica ma di riportare questo mondo freak diciamo così santo niano nel quale barton dice sostanzialmente tutti tutti noi abbiamo avuto un rifiuto non siamo stati invitati a una festa alle medie abbiamo qualcosa che non va no cioè siamo ne siamo negli eti facciamone una forza no e quindi noi abbiamo sempre vissuto questo concerto anche come un rito collettivo nei quali noi siamo poi sacerdoti insomma se vi permettete questo termine si convogliamo un'energia e quindi però lì però lì ti dico per me anche se ci sono momenti di senso perché io faccio anche narrazione lì quindi la gente invece c'è un piano io parlo alla gente e c'è un momento completamente di 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 enfasi di di niente è più facile quello per me perché porto qualcosa che di qualcun altro diciamo così piuttosto che portare un che spogliarsi con la propria poesia perché tu se sei sincero ci sono anche poeti che non sono sinceri e probabilmente fanno un mestiere diciamo così o performer che non sono sinceri ma se sei sincero questa sincerità pesa moltissimo e pesa devi riuscire a portartela sulle spalle e riuscire a riportarla ecco e questo è più difficile hai detto una cosa hai detto una parola spogliarsi c'è con la poesia senza musica si è nudi sei a mani non sei nudo a mani nude no vero c'è secondo senso di nudità vado con la tua terza domanda fai con l'ultima uno sguardo nel backstage scrivi reciti hai creato un sacco di cose differenti dal punto di vista artistico e sei anche padre che tipo di padre sei ma io tento di essere un padre che incoraggia la curiosità quindi tutte le volte che mia figlia mi fa una domanda adesso ho otto anni quando ne va a cinque faceva domande da bambina di cinque anni quindi sono domande anche molto diverse a volte anche in genere un po' stramparate io non solo le ho ho tentato sempre di rispondere in modo esauriente ma poi quando mi sono ricordato le ho sempre detto brava che hai fatto la domanda mi piace quando mi fai delle domande perché io mi ricordo da bambino e poi ho visto insomma anche da adulto bambini che fanno una domanda no magari che può sembrare un po sciocca un po lunare all'adulto e l'adulto che è indaffarato che ha problemi a casa sul lavoro eccetera risponde un po in modo così sommario sbrigativo ma quella domanda che può sembrare sciocca perché bambino ha cinque anni ma toni ma l'intento di sapere ciò che ha prodotto la domanda non è una cosa sciocca c'è una cosa preziosissima quindi anche se la domanda è lunare bisogna rispondere con rispetto per rispetto di quella cosa lì e per incoraggiare il bambino a continuare a fare domande poi quando invece di avere otto anni ne avrà sedici fra domande da ragazzi sedici anni altra domanda io te l'ho chiesto perché perché te l'ho chiesto perché a parte che te lo dico proprio sarebbe bello che un padre così che 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 come tempo può può non so fabbili fare dei percorsi non potrebbe fare dei percorsi con un figlio è bello racconto le storie racconta la piccola un po troppo piccola apparentemente io buttavo lì e poi vedevo vedevo che magari ogni tanto mi faceva una domanda sulla cosa che avevo raccontato un'altra raccontata era all'asilo ancora l'evoluzione no da pesci siamo diventati anfibi poi rettili e dopo uno due giorni mi ha fatto una domanda ma allora quando eravamo pesci babbo sì quindi quindi ti dico è un aspetto che poi che poi non so sebbene tu sei sempre in video è meno conosciuto di te no questo e poi io ho anche mi ricordo di una ricorda il tuo libro ma di poesie ma mi ricordo di una poesia bellissima anche dedicata figlia comunque un punto con storie con cose inventare storie riuscire a comunicare a ea trovare questi lati qua per me è una cosa bellissima ecco sono finite le domande robin mi ha finito le domande però tu hai scritto una una coda diciamo anche spero di rivederti presto e di scambiare assieme a te qualche parola o perché no qualche rima un abbraccio non so se io avevo e tu nella speranza di sentirti recitare una tua poesia brutta molto presto ti mando un saluto roberto bellissima robin bellissimo allora roberto leggiamo la poesia sì 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 sasso forbice carta ok sasso forbice carta ho avuto io ho avuto io ho avuto io inizio io inizio io una poesia breve una poesia breve sulla poesia ok bello bello domandano sempre a se stessi cosa sia la poesia se sveglia accadimenti degni di nota eventi atmosferici di un certo interesse se colga l'intimità delle cose ne faccia parola se sfregi se insegni se qualcuno in un altro più interessante mi pare che dica di sé che per guardare il mondo non si può essere altro che uomini bella 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 mi sembrava che l'ho già sentita ma lo che la sono ricordata tutta la sera questa tipo mi ricordo che tempo fa mi hai detto che ti piaceva questa poesia l'avevo pubblica vedi vedi il verso finale mi ha stafilato e contemporaneamente mi sono ricordato che l'avevo questo è nell'ultimo libro le tecniche di soluzione animale non ce l'ho ancora non ce l'ho ancora ma l'ho ascoltata dal vivo e lo faccio avere ci penso io cosa mi leggi tu le cose breve breve le mie sono un po lunghe sono un po però ce n'è una abbastanza breve che si chiama invidia di lady gaga per il sole cioè lei che vuole essere la più famosa la più famosa è la più brava ma la più spettacolare ma già dopo che punto capisce che non può essere come il sole questo dramma le vere stelle se ne stanno in disparte badando ai fatti propri introverse timide pensose così anche il sole che teme i nostri occhi innumerevoli che accecando ci distoglie gli sguardi ci distrae con l'incanto nei colori maledice il gallo che sgolandosi lo addita s'arrossisce e raggomitola sotto l'orizzonte come vorrei anch'io così incurante assente contro voglia risplendere da un buio senza fondo di lapidare luce faccio gli applausi come si fanno si fanno nell'ambiente internazionale del poetry slam bella questa mi sembra una buona conclusione con l'invidia per il sole giustamente giustamente io lo so ci salutiamo qua io vorrei farvi vedere questa busta di carta carbone che ci ha ringraziamo carta carbone che ci ha concesso di vederci esatto io spero di vederti presto dal vivo robbie si 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 succederà e non so viva la poesia buona giornata della poesia a tutti viva la poesia ciao robbie ciao a tutti